Quest'anno è l'anno in cui Regione sarà Regione d'onore del National Italian American Foundation. Faremo un evento a New York ad aprile con le nostre imprese che si presenteranno al mercato americano e imprese del mercato americano che si presenteranno al Friuli Venezia Giulia per favorire investimenti reciproci. Poi ci sarà il grande evento di ottobre con il Gala NIAF. Così il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga sui rapporti con gli Stati Uniti al centro di un incontro nel pomeriggio con l'ambasciatore statunitense in Italia Jack Markel. La Regione spiega il Presidente guarda gli USA per gli antichi legami ma anche per rinsaldarli alla luce di quanto sta cambiando nel mondo. Dobbiamo rafforzare le partnership tra le democrazie occidentali per rendere più stabili i paesi, per rendere più stabili le democrazie, per rendere più stabili il nostro sistema produttivo. Conversando con i giornalisti Fedriga ha anche commentato la situazione venutasi a creare a Trieste dopo l'accorpamento dei consultori familiari e non ha fatto sconti. E riusciremo a garantire finalmente una medicina evoluta che possa dare i servizi alle donne. Perché io non posso pensare che la qualità della medicina si veda dai passi che fai per raggiungere il consultorio. Perché questo è passato, i passi che fai per raggiungere il consultorio. Non è da questo. La scelta specificato Fedriga è di Asugi e la Regione la condivide in pieno, la appoggia e la difende. Ma se la politica adesso deve entrare a dire dove deve stare la scrivania del medico o quanto distanza ci deve essere dalla casa alla scrivania del medico, dove non c'è l'urgenza, io penso che la politica voglia prendere lo scalpo della sanità, e ne ho visti tanti purtroppo negli ultimi giorni, lo scalpo della sanità, il diritto alla salute dei cittadini, peggiorare il servizio invece che migliorarlo, semplicemente per un'utilità elettoralistica, perché con la paura si comunica molto facilmente.